4 secondi e 31, 12 il risultato per il totale di Pasia e Isabella Iona, 12 goals in 74.31 Matteo Giunti è l'ultimo a partire, chiude in sella a Kellandes, numero 56 per l'Italia Now last to go for this class, qualità di Matteo Giunti riding Kellandes, numero 56 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti